Sì, quindi riapre questo palazzo ogni martedì di aprile, di maggio e inizio giugno, quindi il pomeriggio dalle 14 alle 19. Ma il palazzo Chigi alla Postierla è molto diverso dalle altre collezioni senesi, perché è proprio centrato sul 500 e il 600 senesi e se si vuole conoscere gli artisti come Rutilio Manetti, Bernardino May, Rustici, è in questo posto che si può scoprire tutta la qualità di questa scuola e con dei quadri eccezionali, anche un contesto architettonico di altissimo valore, quindi una visita proprio molto interessante e che completa tanto, diciamo, tutte le altre collezioni senesi.